Manu era un mito, era un ragazzo solare pieno di vita, si faceva amare da tutti, non c'era altro. Diceva ciao vecchia, sono qua, siamo arrivati, dai prenditi la nipotina, goditela. Era felice di essere diventato papà? Sì, era il settimo cielo, viveva per la sua famiglia. Tranquilla vecchia, sto bene, diceva Manuel a mamma Donatella, ogni volta che lei preoccupata lo cercava per sapere dove fosse. Stava in apprensione sempre quando si metteva in strada con il camion, ma lui cercava di tranquillizzarla. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un destino atroce attendesse suo figlio sulla strada. Il martedì sera c'era la riunione di famiglia, Manuel sedeva qui, una famiglia unitissima. Racconta papà Roberto che sabato il figlio lo aveva raggiunto qui sul campo per aiutarlo a raccogliere le patate. Faceva anche giardini fuori, a fuori tempo, anche se faceva un sacco di ore, però era sempre, è sempre con sorriso in bocca. Sempre felice. Si tirava mai indietro, non si tirava. Sì. Era sempre disponibile per tutti. È Alex il figlio più giovane a stringere accanto a sé mamma e papà, lui e Moira la più grande. Questa la foto che li ritrae da piccoli. Se rendiamo ancora conto, anche se l'abbiamo già visto in orbittorio, non ci rendiamo ancora conto che ci manca il suo sorriso, tutto. Non riusciamo ancora a realizzare bene cosa è successo. Non c'è rabbia nelle loro parole, né un accenno all'auto che ha travolto il cervo, finito poi nella cabina del camion guidato dal figlio. Non penso a altri, io penso solo a lui, a mio figlio. Se non si è accorto neanche quello della macchina, sicuramente. Non si è accorto neanche il nostro figlio. A breve arriverà Tiziana, la compagna di Manuel, cercano di stare insieme il più possibile. Era il giorno di Pasqua, quando comunicarono la nascita della loro bambina. Manuel aveva fatto mettere dentro l'uovo scarpette ed ecografia per dare il lieto annuncio. Guardo loro due e non capisco. Allora mi fanno, ma non hai capito? Certo, ma che cos'è? Ah, la Tiziana è incinta. Guardo mio figlio sbianco e mi sono messa a piangere dalla felicità. I funerali di Manuel saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Scandolara. La sera prima alle 20 sarà recitato il Santo Rosario. La famiglia sta organizzando un pullman con partenza domenica a questa, ora 7.30, dal piazzale della chiesa per chiunque volesse salutare il figlio in obitorio a Belluno. Attendono di capire quante persone arriveranno. C'è il mondo, c'è il mondo che ci vuole bene, il mondo, e li ringrazio. Un pezzo di cuore è partito. Però un pezzo di noi non c'è più.